Tempo di bilanci per il Teatro Maggiore di Verbania, terminato il primo anno completo di gestione. In totale sono stati circa 175 gli eventi pubblici che si sono svolti al Maggiore da gennaio a dicembre 2017, tra spettacoli, incontri, convegni, eventi, mostre, quindi in media un'iniziativa ogni due giorni. Ben 94 gli spettacoli, compresa la stagione ufficiale proposta dal Comune, supportata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, e quelli promossi da associazioni, enti e organizzazioni esterne. Sul totale degli spettacoli, 55 sono stati di musica e balletti e 39 di teatro. 36 invece i convegni e gli incontri pubblici, per la gran parte organizzati da enti esterni e organizzazioni private, mentre 45 sono stati gli eventi vari, dalle manifestazioni sportive a quelle turistiche, mostre e serate di cinema. Sono numeri importanti, afferma il sindaco di Verbania Silvia Marchiolini, che testimoniano come il centro 20 il Maggiore non è solo il luogo in cui il Comune propone la sua stagione teatrale musicale, ma è diventato uno spazio che le realtà culturali, associative ed economiche del nostro territorio, non solo, usano per le loro proposte e iniziative. Si tratta ora di proseguire e migliorare il percorso intrapreso con la Fondazione, che potrà sviluppare e intensificare meglio anche il lato imprenditoriale del centro 20. E a proposito di Fondazione, è stato pubblicato il bando per le candidature che permetteranno di individuare il rappresentante del Comune nel CDA. Intanto buone notizie arrivano dalla Regione, che ha messo a disposizione del Comune 50.000 euro per la nuova illuminazione dell'area esterna e dell'arena, sulla montare complessivo dei lavori previsti di 180.000 euro.